Non si può più andare avanti così e speriamo che la battaglia di Due Carrare questo sia un tassello forte e importante per dire basta ai centri commerciali. Dopo l'ultimo consiglio comunale a Due Carrare, cittadini, associazioni ambientaliste dei commercianti sono cautamente ottimiste. Quella per salvare il castello del Cataio e il territorio circostante dalla costruzione del più grande centro commerciale del Veneto è una battaglia che sembra avviarsi verso un lieto fine, una battaglia che ha sempre visto la nostra emittente in prima fila al fianco dei cittadini e delle loro rivendicazioni. Sono state raccolte più di 9.000 firme, c'è stata una grossissima manifestazione con un migliaio di persone, assemblee, conferenze, una mobilitazione straordinaria per la difesa di questo territorio. La vista dai banchi dell'opposizione in consiglio comunale a Due Carrare la vicenda qualche preoccupazione continua a darla. Ci preoccupa che venga riproposta la cosa perché questa è stata una mera funzione tecnica che non è stata osservata e non sappiamo domani cosa si ripresenterà. Abbiamo sottolineato la conduzione veramente vergognosa da parte dell'amministrazione comunale di Due Carrare in merito a quella che è stata la procedura per arrivare a questo tipo di momento. Il prossimo consiglio comunale non potrà comunque che tenersi dopo il 18 aprile, vale a dire dopo la presumibile conferma del vincolo a tutela del Cataio da parte della soprintendenza. Il fatto di aver verificato che non sono venute meno le condizioni per portare a termine, diciamo, portare all'approvazione l'accordo di programma è una cosa che dà respiro all'iniziativa e speriamo possa anche rappresentare la pietra tombale almeno su questo passaggio.